Due incontri informativi sul territorio piemontese per promuovere la figura del tutore volontario di minori stranieri non accompagnati in un periodo che vede da un lato aumentare in Piemonte le richieste di tutela da parte del Tribunale dei Minori e dall'altro la cronica carenza di tutori in alcune zone del territorio. Il primo incontro mercoledì 12 luglio presso il Palazzo Civico di Tortona, il secondo martedì 18 luglio nella sede del Consorzio Monviso Solidale a Savigliano. La figura del tutore volontario è una figura assolutamente centrale per l'inclusione e l'autonomia dei ragazzi stranieri che giungono appunto sul nostro territorio senza un accompagnamento formale quindi senza che nessuno ne abbia la rappresentanza legale e ci siamo accorti appunto negli ultimi mesi che soprattutto in certe zone del Piemonte pur a fronte di un aumento di minori stranieri presenti il numero invece dei tutori è ancora abbastanza carente. Per promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari da inserire nell'elenco del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ha pubblicato un bando aperto consultabile online sul sito www.cr.piemonte.it.